Assolto perché non punibile in quanto incapace di intendere di volere all'epoca dei fatti, un anno di reclusione per il reato di falso in concorso pena sospesa, libertà vigilata per dieci anni. E' quanto deciso dal GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio a carico di Massimo Maravalle, il tecnico informatico di 48 anni affetto da disturbo psicotico atipico che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2014 uccise nel sonno il figlio adottivo di 5 anni, Maxim, di origine russa. Maravalle, difeso dall'avvocato Giuliano Milia, è stato giudicato con il rito abbreviato. Patrizia Silvestri, madre adottiva di Maxima e moglie di Maravalli, Giuliana Iachini, medico del servizio di medicina legale del lavoro dell'asla di Pescara e Fabio Panzieri, medico di base, sono stati invece rinviati a giudizio per il reato di falso in concorso. Il processo a carico dei tre prenderà il via il 27 di aprile prossimo davanti alla corte d'assise di chiedi. Era stato lo stesso PM Andrea Papalia a chiedere l'assoluzione di Maravalle dal reato di omicidio in quanto, secondo la perizia dello psichiatra Renato Ariatti, all'epoca dei fatti il tecnico informatico versava per infermità in condizioni di totale esclusione dalla capacità di intendere di volere. Inoltre il GUP ha fissato per il 24 marzo prossimo alle 10 l'udienza di verifica periodica della pericolosità sociale di Maravalle. Per quanto riguarda invece il reato di falso, secondo l'accusa, Maravalle e la moglie, relativamente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale presentata al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, avrebbero omesso di riferire e fornire notizie sui disturbi e sulla patologia psichiatrica di Maravalle. I due medici, sempre secondo l'accusa, avrebbero invece attestato che il padre di Maxime era esente da difetti fisici e psichici, omettendo di rilevare l'esistenza di patologie. Una sentenza che indubbiamente così com'è non ci attendevamo, sia perché c'è un rinvio alla Corte di Assisi che ad un primo approccio ci appare completamente fuori luogo e sia perché ritenevamo che ci fossero tutti i presupposti per il falso, almeno per quanto riguarda la mia assistita Patrizia Silvestri, tutti i presupposti per il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e anche il reato. Io non credo che sia un caso che si risolve nelle aule giudiziarie, è un caso purtroppo che non doveva succedere, è un caso forse che va approfondito nelle sedi opportune, tant'è vero che mi risulta che le procedure siano state rinforzate, rafforzate. Purtroppo in Italia succede sempre che i casi tragici fanno sì che i protocolli vengano dotati dopo e non prima. Se questi certificati medici in qualche passaggio procedimentale si siano persi e in quale, questo non spetta mai dirlo.